Allora, ritorniamo qui a noi, ci sono diverse ancora questioni che dovremmo affrontare, vediamo se ce la facciamo questa volta. Il ruolo dell'ente locale a questo punto, quale viene ad essere? Perché qua abbiamo detto anche un controllore, un verificatore, garante, responsabile, non responsabile, insomma. Io faccio un caso concreto. Noi facciamo parte di un insieme di, mi pare, 75 comuni che compongono l'Etra. L'Etra è una società pubblica, è partecipata al 100% dei comuni del Padovano, del Vicentino, quindi partiamo dall'antropiano di Asiago e arriviamo fino ai Colli Uganei. E l'Etra è una società che fa circa 180 milioni di euro di fatturato e quest'anno mi pare che abbia chiuso con un margine inutile di 4 milioni e mezzo di euro. Ora, io dico, è evidente che Etra è una società che in questo momento sta, come dire, soffrendo anche il cambiamento del panorama complessivo che riguarda il tema dei servizi in generale che Etra dà, perché Etra dà naturalmente il servizio, da un lato il servizio idrico, dall'altro il servizio dell'asporto rifiuti, oltre a tutto un insieme di altri servizi minori che in questi ultimi anni ha iniziato, come dire, a dare, collaborando con i comuni. Però, adesso, al dirà poi dell'aspetto, io non entro nel merito del bilancio di Etra, però se vado a vedere quelli che sono, che è quello che è il tipo di servizio che una società di questo genere mi dà a me, dà il mio comune, beh, io non posso non dire che il servizio che Etra dà è un servizio decisamente interessante, decisamente buono. La domanda che mi pongo è, nel momento in cui questo servizio fosse posto sul mercato, quindi non più in house, ma andassimo sul mercato, e quindi non più dato dal comune direttamente a Etra, ma fosse messo sul mercato come qualche comune stia pensando di fare, al di là del fatto che probabilmente, ma dico a me sono non concesso, che si abbatta di una quota a parte il costo, ma il servizio che ottengo è lo stesso o è un servizio diverso? Perché, anche qua, dobbiamo mettersi un'altra volta d'accordo con noi stessi, cioè non possiamo pensare di avere, come si dice, una botte piena e moglie ubriaca. È evidente che la qualità del servizio è legata al costo del servizio. Io non sto dicendo che il costo del servizio non deve diminuire, ma sto dicendo che parte da un presupposto, che quando parliamo di rifiuti parliamo di una cosa seria, quando parliamo di acqua parliamo di una cosa seria, e quindi mi preoccupo che il servizio di asporto di rifiuti e il servizio idrico dia le massime garanzie agli utenti, che sono poi i cittadini dei nostri comuni e dei nostri territori. Quindi, a questo punto qua, discutiamo sulla strategia che queste società devono avere. Primo, devono crescere? Se devono crescere, come devono crescere? In quale modo dovranno crescere? Aggregandosi, fondendosi, facendo accordi di ordine commerciale, portandosi direttamente sui mercati. E questa è, secondo me, la vera questione. E poi, come dire, debbono concentrarsi su un certo tipo di attività, magari quelle due di core business, oppure è bene che comincino a muoversi sempre naturalmente nell'ambito dei servizi pubblici e si mettono a fare anche qualche altra cosa che magari i comuni serve. Perché queste società fanno anche un altro servizio, secondo me, e parlo sempre per Etre, di cui qualche volta non ci si rende conto. Il fatto che danno tutto un insieme di servizi, a volte minori, ai comuni, ma che io credo che per alcuni comuni siano anche preziosi, specialmente per quei comuni più piccoli, dove altrimenti da soli questi servizi non potrebbero essere fatti o portati avanti. Chiedo anche a lei, a commento del messaggio, che un po' rappresenta tante volte sì la diffidenza che molti di noi hanno. diceva sì, se rispondeva un po', faceva l'osservazione a quanto lei aveva detto, cioè che i cittadini dovrebbero portarsi i rifiuti all'ecocentro. Io credo che questa sia una provocazione, nel senso che vogliamo... Cioè sostanzialmente l'interessumo, il cittadino diceva non mi fido che poi mi abbassi i costi, perché tanto hai sempre meno servizi a fronte di costi sempre più alti. Io l'ho presa come una provocazione, cioè voglio dire, se tutti si arrangiassero a portare i rifiuti all'ecocentro, avremmo annullato il costo di trasporto dei rifiuti. Ma poi verrebbe diminuito a carico i cittadini, non ci credono più i cittadini. No, ma inizialmente il cittadino avrebbe risparmiato facendo questo, assolutamente no, perché non è che si muove gratis il cittadino. E mi viene sempre in mente a tutte quelle persone che giustamente per verificare prezzi più bassi vanno a fare 20-30 km di macchina per andare all'ipermercato iperconveniente. Quando mai ammortizzeranno i costi della benzina se effettivamente non è conveniente, cioè se non trovo tutti i prodotti con estrema convenienza. E allora ci vuole un equilibrio su queste cose. Allora abbiamo trovato che, e l'esperienza dice, che il massimo di raccolta differenziata e quindi il massimo di rispetto dell'ambiente lo si ha con la raccolta porta a porta. E tutti i migliori comuni, le migliori aggregazioni di comuni sono quelle che hanno questo tipo di modello nella gestione dei rifiuti. Anzi, il massimo lo si ha per chi fa la tariffa puntuale, cioè chi ha un sistema di misurazione del rifiuto e quindi è un modello incentivante per il cittadino per poter fare meglio. E allora, questo è il modello. Poi, se noi andiamo a vedere in effetti anche globalmente, è anche il modello che massimizza i ricavi dalla vendita dei riciclabili. E qui non mi addentro in questo settore perché è estremamente complesso e rischiamo di fare anche confusione. Dei riciclabili che sono gli imballaggi. In pratica il meccanismo funziona così, il cittadino paga una tassa nel momento in cui compra un prodotto con un imballaggio, il servizio pubblico restituisce ai produttori associati in consorzio questi imballaggi che gli danno un corrispettivo. Allora, il sistema porta a porta è quello che massimizza la qualità dei riciclabili, quindi degli imballaggi che si restituiscono, e un profitto maggiore. E garantisce che non si ha un grosso costo di smaltimento per i rifiuti, perché poi... Ma si ha un costo ambientale nello smaltimento dei rifiuti, perché poi nessuno vuole l'inceneritore sotto casa, nessuno vuole la discarica, e comunque mantenere questi strumenti di scarica e inceneritore hanno un costo ed economico ma ambientale altissimo. Quindi bisogna che tutti sappiamo che stiamo contribuendo anche con la nostra tariffa dei rifiuti a far sì che il mondo sia più pulito e che il mondo... E comunque il porta a porta è imprescindibile. Ed è imprescindibile. E con l'osservazione fatta nel messaggio che l'hai vista. Ma non si è posizionato tornare indietro, perché giustamente, come dicevi... Che dicevano, con la raccolta differenziata pagherete di meno, poi in realtà... In realtà si è pagato... Se noi andassimo a bocce ferme e avessimo esattamente lo stesso servizio, sicuramente ci costerebbe molto di più in termini di costo ambientale se noi lasciessimo, come era una volta, ad ogni piesso spinto delle discariche legate ai cassonetti. Cioè abbiamo dimenticato cos'è il nostro ambiente 10-15 anni fa e andiamo a vedere cosa succede in giro dove non c'era la raccolta porta a porta. Quindi il costo ambientale indiretto, che non è un costo banale, è un costo importantissimo, comunque i contribuenti in qualche modo poi lo paga. Quindi io penso che sia, come dire, corretto il porta a porta è certamente un elemento di civiltà, è un elemento di garanzia per quanto riguarda il territorio, per quanto riguarda l'aspetto ecologico-ambientale, ma anche un modo, uno stile di vita nuovo. Cioè quello che bisogna fare probabilmente è a ragionare ancora di più sul livello, sulla quantità di rifiuti che si devono produrre e come, quanto, in quale modo. E anche poi, c'è da dire anche che negli ultimi due o tre anni, se non ricordo male, ma lo stesso mercato del rifiuto riciclato ovviamente ha avuto l'andamento dell'economia in generale, che è chiaro che ha subito una flessione. Quindi anche su questo, per esempio, mi riferisco in primis al vetro e alla carta e anche alla plastica, è evidente che quello che veniva pagato, che ne so, dieci anni fa un quintale di plastica riciclata, oggi viene pagato di meno perché il mercato è sostanzialmente un mercato legato ai mercati cinesi, ai mercati indiani, quindi è un mercato molto complicato. Però il costo, secondo me, il costo che noi dovremmo subire, tornando indietro a quello che si faceva prima, sarebbe un costo insopportabile e dal punto di vista della bolletta e dal punto di vista ambientale, ecologico e di difesa del territorio. Senza contare poi l'occupazione, tornando a un tema importante, è che con questi sistemi noi abbiamo trasferito dallo smaltimento, quindi dal bruciare, soldi, e ridistribuiti sotto forma di stipendi agli operatori, perché è chiaro che il porta a porta presuppone un po' più di lavoro e di operatori nel settore. Quindi l'ultima cosa, adesso poi voi ritroverete come Anci per parlare del discorso delle città metropolitane, quindi anche qui risparmio di risorse, accorpamento di comuni, eccetera, favorevole o contrario, una battuta è favorevole o contrario? Allora, favorevole o contrario? Allora, secondo me, il mio pensiero personale è che bisognava superare il modello delle province come erano costituite prime, però un'aggregazione di area vasta è imprescindibile. E ci stiamo accorgendo in questo punto... Togliendo i comuni, togliendo le province, quindi... No, ma adesso tutti dicono si stanno togliendo le province, no, si stanno trasformando le province. Il problema grosso è che complessivamente non si ridurranno i costi, perché non erano i costi delle giunte che incidevano. E chi si occupa di sostanzialmente edilizia scolastica e strade, perché è questa competenza principale, è l'urbanistica, è l'ambiente, ci vuole comunque, no? E quindi alla fine siamo in questo momento di trasformazione e anche un po' molto di confusione. Molte province si sta votando, si farà un meccanismo, un nuovo tipo di responsabilità, però alla fine non credo che globalmente avremo dei benefici per quanto riguarda il taglio di costi. Io penso che le province debbano avere un ruolo di governance, di governo strategico dei territori, perché oggi andiamo verso un tipo di mondo nel quale, se noi non ci confrontiamo a livello non più ovviamente solamente provinciale, ma nemmeno più solamente regionale, ma anche a livello europeo, siamo fuori dei grandi passaggi, dei grandi circuiti finanziari, perché guardate che nei prossimi anni, ma lo dici chiaramente il programma europeo 14-20, nei prossimi anni i flussi finanziari passeranno solamente attraverso quello che è, come dire, l'Europa. Quindi farsi, farsi, vedendoci i vari programmi di finanziamento. Quindi sistemi consistenti. E quindi la governance della provincia diventa strategica da questo punto di vista, secondo me. Per quanto riguarda poi, io credo moltissimo nell'Unione dei Comuni, quando però sono fatti in modo che non preveda solamente il fatto che io entro in Unione perché risparmio, risparmio, ma prevede il fatto che l'Unione è ancora una volta un'altra scelta strategica che mette insieme tutto un insieme di servizi e rende più efficienti i servizi che i comuni già in questo momento danno. Non credo, non sono fra quelli che fa autori delle fusioni, perché credo che lo sforzo culturale e intellettuale, ma anche lo sforzo di ottura, come dire, delle realtà locali che noi dovremmo subire, cioè nell'andare verso le fusioni, non giustifichi in qualche modo il mezzo. Scusa, non giustifica il fine, se il mezzo non giustifica il fine. E quindi credo che piuttosto che le fusioni, per me il futuro dovrà essere sicuramente unioni molto più efficienti. Perfetto, siamo arrivati al termine. Io vi devo ringraziare, ringrazio anche i nostri telespettatori, abbiamo messo anche in onda alcuni messaggi che sono anche giustamente provocatori, poi avremo modo ancora di parlare di questi temi. Grazie quindi, buon lavoro anche per il prossimo incontro, a voi buon proseguimento e ci troviamo domani. Grazie a te.